In occasione della festa di San Maurizio e compagni martiri a Imperia saranno effettuate due visite speciali il 16 e il 24 settembre dedicate a far conoscere non solo la storia della basilica e dell'antica chiesa quattrocentesca del Parasio ma anche la geografia dei patroni, santi martiri di Agaunum e San Leonardo. Nella parte introduttiva storico-artistica delle numerose visite ad oggi effettuate, circa un migliaio le persone accompagnate, turisti e locali che non avevano mai avuto la possibilità e l'occasione di salire fino alla cupola della basilica di San Maurizio, desta sempre particolare interesse la figura dei santi, in particolare di San Maurizio, poco conosciuti al di fuori del territorio nord-occidentale italiano.